Paese mio bello, l'Italia che cantava e canta, un ponte musicale trapassato e presente nel recital di Gianni Lamagna, che andrà in scena oggi, venerdì 21 dicembre, alle ore 18 e 30 nella Basilica Pontificia, nel centro storico di Castellabate. Lo spettacolo, a cura dell'assessorato al turismo e alla cultura del comune, rientra nella rassegna Castellabate e il luogo dell'incanto, un progetto culturale cofinanziato dal POC Campania 2014-2020, sotto la direzione artistica di Girolamo Marzano. Protagonisti di un concerto indimenticabile saranno Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnolo e Patrizia Spinosi, accompagnati dai maestri chitarristi Michele Bonet e Paolo Propoli. Il repertorio spazia dalla tradizione del sud a quella del nord e brani che coinvolgono anche America Latina e Germania. L'ingresso alla manifestazione è completamente gratuito. Un gruppo canoro d'eccellenza composto da interpreti abilissimi del genere popolare napoletano che sapranno regalare al pubblico uno spettacolo emozionante, commenta così l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Castellabate Luisa Maiuri. I prossimi protagonisti con la rassegna Castellabate e il luogo dell'incanto, conclude la Maiuri, saranno le ninfe della Tamurra a Santa Maria e l'orchestra mandolinistica napoletana a San Marco di Castellabate.